allora ragazzi posso andare già giù oppure devo aspettare prima il parere giornalistico no allora guardiamoci un attimo l'articolo per chi non lo sa ragazzi perché non l'ha letto ma se poi condividere l'articolo ce l'ho ma mi hai fatto ce l'avevo già pronto mi hai fatto condividere sta minchiata di faina ecco qua da zone stoppia la dopo stoppa la doppia utenza per ogni abbonamento la svolta della piattaforma che ha in pancia i diritti della serie a non sarà più possibile la concorrenzi vale a dire l'accesso ai contenuti in contemporanea da due device cioè spieghiamolo voglio dire in prima ti facevi un abbonamento e guardavi magari dal televisore e la mettevi anche sul cellulare quindi tu rimanevi a casa e lo guardavi al televisore e tutto tua moglie che c'è il cellulare da un'altra parte a casa delle amiche guarda la partita adesso non si può più fare giusto è questo scusate dammi allora diciamo il problema ma scusami che si può fare solo se invece siete nella stessa casa no no non si può fare proprio neanche no no perché il device vanno associati ma sono singoli device non è come sky che vanno attraverso una linea unica internet qua parla di device per device si intende televisore cellulare xbox playstation insomma chiaro chiaro leggi legge la seconda parte che poi sentiamo il parere di dammi però per avere il problema quando c'è scritto la comune ecco la conversione degli la comunicazione della comunicazione degli abbonati contattata dal sole 24 ore la piattaforma ha risposto no comment no ci dissociamo perché anche noi li avevamo contattati ma visto l'ultimo intervento di damiani live immaginatevi con che voglia venivano oggi mi ha detto che era raffreddato non poteva passare allora un po io sono febbricitante sono qui i due al posto di uno è però in procinto di lasciare la scena sarebbe infatti in partenza la comunicazione agli abbonati che devono essere informati per avere la possibilità di esercitare il recesso entro 30 giorni in questo modo l'avvio della comunicazione in questi giorni porterà dunque la novità regime a partire dalla metà dicembre andrea buongiorno ciao andrea ci senti ti vediamo ben non benissimo andrea perché stazione ragazzi stava prendendo il treno eccolo qua adesso ti vediamo bene andrea ci senti bene no vi sento con maluccio risposto vediamo un altro punto si sente meglio noi adesso ti iniziamo a vedere molto in maniera molto molto più fluida perché ho preso delle cucchiette allora innanzitutto applauso e grazie mille andrea di essere intervenuto qui oggi noi con il live e complimenti per l'articolo e l'inchiesta che hai fatto allora andrea per chi non lo conoscesse gli diamo del tuo andrea biondi un giornalista del sole 24 ore economista che ha deciso di venire qua per spiegarci l'articolo in modo che ci diciamo esponiamo con cognizioni di causa andrea come nasce questa diciamo questo articolo beh c'è una soffiata una prego c'è un rumor c'è avuto una soffiata qualcosa di concreto questa cosa queste ipotesi diciamo di da zone no 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 ovviamente il nostro lavoro quindi alla fine è soffiata verificata su cui c'è stato del lavoro quindi no no chiaramente come solo 24 ore e diamo delle diamo delle indicazioni quando siamo abbastanza certi che questo accada niente da zona ha deciso di mettere fine a questa a questa pratica della doppia utenza per ogni avvenamento cioè che alla fine permetteva di fare lo sharing della propria del proprio abbonamento fra più persone è una cosa che diciamo ha un senso quando ci si trova in famiglia cioè ad esempio parliamo di famiglie che hanno i genitori hanno i figli all'università e quindi in quel caso lì ci sono delle situazioni che lo giustificano in tante altre situazioni forse no e c'è anche da dire questo che sostanzialmente con mia sorpresa ho visto nel corso di questo lavoro che esistono dei siti che garantiscono questo servizio cioè il servizio appunto di sharing dell'apponamento a tason ovviamente ponendo come condizione quello di far parte della medesima famiglia che poi questo accada è tutto da vedere probabilmente non è così e quindi da questo punto di vista peraltro circolavano dei report interni all'interno di tason che parlavano che parlano di un 20 per cento di condivisioni fraudolente tutto questo che cosa vuol dire che un 20 per cento cioè non conosco la tecnologia ci sono delle condizioni di utilizzo in base alle quali può essere utilizzato l'abbonamento per vedere il medesimo contenuto con due dispositivi differenti in queste condizioni di utilizzo è chiaramente scritto che si deve appartenere alla medesima famiglia se questo non avviene è una condizione fraudolenta la cosa che dicevo anche che ci sono su telegram su telegram soprattutto c'è un grandissimo traffico di di abbonamento ci sono anche dei siti io ne ho contati almeno tre ci sono anche dei siti che forniscono questo servizio legittimamente è un servizio a pagamento nel senso che viene richiesta una commissione però anche qui la condizione è che si appartenga al medesimo nucleo familiare quando questa cosa non avviene ovviamente si parla di una di un di un utilizzo di un utilizzo fraudolento è di una truffa stiamo parlando andre perché non vuole usare un termine improprio però stiamo parlando di una quasi una truffa stiamo parlando quasi di una truffa sì questo questo bisogna dirso e in questi casi quello che denuncia da son sono degli atti di pirateria ora io come dire sto descrivendo il contesto in cui è maturata in cui mi risulta essere maturata questa questa decisione una decisione che viene presa in corso d'opera questo è sicuramente un grande problema nel senso che a campionato appena iniziato una decisione così lascia scontenti molti se non nel merito anche per le modalità bisogna considerare che comunque l'apponamento c'è la fruizione del calcio in streaming è una fruizione differente rispetto a quello a cui eravamo abituati finora con sky col satellite ed è una fruizione che volentonolente per diciamo la struttura stessa del mezzo si presta a diciamo degli usi a degli usi fraudolenti e della degli atti di pirateria ora messi insieme tutto questo da son ha pensato di fare questa questa mossa che è una mossa sicuramente audace perché consideriamo che in un momento come questo con i disguidi che sembrano essere andati alle spalle ma diciamo che da poco che si è smesso o si sta smettendo di parlare di quelli che sono stati gli inciampi della prima parte del campionato fare una cosa del genere è una grossa è una grossa scommessa che la polemica poi non avevo ancora sentito damiano che stava ascoltando anche lui il religioso silenzio è anche un po forse che loro si erano pubblicizzati in un modo e poi dopo però nei confronti di chi ha agito faccio un esempio io in maniera lecita alla fine è chi c'è come un po come sempre le persone corrette sono quelle che ci pagano ci rimettono scusami scusami andrea io ci aggiungo questa cosa qua secondo te e quando è stata pubblicizzata l'offerta di da zone era davvero così chiaro forse me lo sono perso io che bisognava stare per forza nello stesso nucleo familiare perché io neanche ma ricordo bene questo tipo di si bisogna essere bisogna essere appartenenti alla stessa famiglia questo è scritto nelle condizioni di utilizzo si c'è scritto ok però no io dicevo secondo te nelle pubblicità che avvenivano in tv era chiara questa perché io non l'ho vista così chiara ecco allora diciamoci però chiaramente io ne conosco ne conosco tanti che diciamo legittimamente non legittimamente ma che hanno scelto di condividere l'apponamento e di dividere il prezzo io pensavo si potesse fare per i non lo io non ce l'ho da zone però pensato a quello che avevo capito che si potesse fare così perciò ti chiedeva molti che ci stanno scrivendo idem io non ho visto questa chiara comunicazione che diceva mi raccomando lo stesso nucleo familiare avevo visto due device ovviamente io non sto facendo una difesa d'ufficio segnalo solo quelle che sono le quello che è successo e quello è quello che hanno deciso e quello che c'è scritto poi probabilmente non era non era così chiaro probabilmente non era non era così chiaro al di là di tutto adesso il cambiamento di una condizione contrattuale porta alla possibilità di poter esercitare il diritto di recessio dammi questa è appunto la cosa che 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 può avvenire dammi te che cosa ne c'è fondamentalmente no io 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 vorrei scatenarmi io rispetto tanto andrea biondi lo saluto e ha fatto un grande lavoro e lavora per un grandissimo giornale uno dei pochi che stimo in italia quindi complimenti però io sinceramente vorrei scatenarmi perché poi io quando vedo le cose vado a documentarmi io credo anche a quello che andrea sta dicendo e come già ribadito non sta facendo una difesa d'ufficio ma quando bisognava attivare l'abbonamento di da zone da zone scriveva chiaramente da zone si sdoppia con un solo abbonamento e non c'è scritto in una maniera assoluta l'ho mandata sul gruppo se volete potete condividerla non c'è scritto in nessun modo che potevano potevamo condividerlo con chi stava nella nostra stessa famiglia io vi faccio il mio esempio io è vero io utilizzo il mio abbonamento di da zone per due persone ma una persona è mia madre e mi abita sopra casa non siamo nello stesso nucleo familiare quindi da domani se mia madre vuole vedere da dicembre vuole vedere la juventus perché è tifoso della juventus insieme a mia nonna devo fargli un altro abbonamento io non ho problemi economici lo dico chiaramente ma per la gente che ha dei problemi economici come la vogliamo mettere e questa è pubblicità ingannevole o stanno facendo qualcosa che stanno facendo passare per altro perché tu mi dici che stai combattendo la pirateria quando secondo me dovresti chiaramente dire che purtroppo non ci sei entrato hai sbagliato i conti per come la vedo io poi andrei un economista queste cose le saprà meglio di me sicuramente no no io io l'unica cosa che mi permetto di dire io ho citato adesso non sono nelle condizioni di poterlo leggere perché sono da un dispositivo mobile però ho citato un punto preciso delle condizioni di utilizzo 8 18 283 adesso non ricordo se andate a vedere lì c'è scritto 3 ricondivido il tuo articolo vi prego di andare a vedere ricordo che c'è scritto per l'appunto che le condizioni devono essere che che bisogna far parte della stessa famiglia dopo di che che ci abbiano marciato mi pare mi pare evidente e dopo di che come dire alla fine c'è stato questo questa sorta di dietro front ma andrea però ho visto una denuncia del codacons pensi poi le cose possono cambiare o si o tireranno dritti allora secondo me tireranno dritti bisognerà vedere la modalità con la quale tireranno dritti la concurrency è una pratica che viene utilizzata anche da altri non solo da da soli viene utilizzata anche da altri da netflix per esempio no andrea scusa ci puoi spiegare questo termine inglese per favore non tanto per me che lo so ma si è quello di cui stiamo parlando la concurrency è quello di cui stiamo parlando cioè la condivisione l'utilizzo con uno stesso abbonamento l'utilizzo dello stesso abbonamento per vedere un contenuto contemporaneamente su due dispositivi diversi e la stessa cosa che permette di fare netflix netflix ha un abbonamento base a 7 euro e 99 mese è un abbonamento premium che permette di collegare quattro dispositivi contemporaneamente a 18 euro o cose del genere benissimo io penso che questa potrebbe essere una cosa possibile però qui onestamente soltanto una valutazione personale io non sono non ho notizie in tal senso cioè potrebbero ad esempio decidere di mettere nelle condizioni di poter scegliere se pagare un po di più per avere eh dei dispositivi collegati contemporaneamente al momento per quanto ne so e quindi questo poi ci ha spinto e mi ha spinto a scrivere l'articolo la decisione è stata presa tant'è che le comunicazioni agli abbonati eh sono anche pronte per partire che possano partire oggi domani dopo domani questo non lo so ma insomma è una cosa che non è nata dall'oggi al domani eh nel senso che chiaramente ritengono che ci sia la possibilità di far emergere molti più abbonamenti a questo prezzo di ritenere la cosa giusta per una loro remunerazione e questo è stato l'affare che hanno fatto dopodiché c'è un elemento di pirateria sì c'è un elemento di previsioni probabilmente non andate per il verso giusto probabilmente anche sì perché una mossa del genere che scatena tante critiche tante proteste alla fine è chiaro che è una mossa sicuramente aggressiva sicuramente artita. Andrea posso chiederti una cosa però mi sembra un pochino il discorso che noi spesso abbiamo in Italia che si va non verso isolare il problema ma diciamo per evitare un problema diciamo rovinare la festa anche a chi si è comportato bene perché ti faccio un esempio uno c'è una domanda interessante della chat è come fanno a individuare che sei dello stesso nucleo familiare che magari è una stupidata la risposta non l'hanno mai individuato perché ti faccio un esempio io lo condivido con mio papà e chiaramente non ci abito assieme però è mio papà e lo condividiamo assieme e pensavo di farne un uso legittimo magari sto sbagliando anch'io eh c'è un modo per questo mi viene in mente non ho chiaramente la risposta perché la risposta poi dopo la vedremo con quelle che saranno le comunicazioni da zona ma c'è un modo per vedere l'appartenenza allo stesso nucleo familiare nel senso che viene c'è un medesimo IP cioè è come se si riconoscesse che quel dispositivo è collegato a quel tipo di abbonamento a quel tipo di rete fissa. Allora è la stessa casa paradossalmente più che nucleo familiare paradossalmente sì paradossalmente sicuramente non si può fare che si può vedere il medesimo eh il medesimo diciamo contenuto la medesima partita a Napoli e a Bologna chiarissimo Andrea posso chiederti una cosa ma il partner di da zone che è team che anche lei ha venduto degli abbonamenti tramite il suo box anche lei dovrebbe inviare io te lo dico perché sono abbonato a team vision e quindi tramite quello vedo da zone come ha preso questa decisione perché team ha anche dato incomodato d'uso dei dei box che hanno un costo elevato poi team è per 12 mesi leggevo prima i box rimangono a tutti gli italiani allora team team è in partnership con da zone e questa è la prima cosa la seconda è che tant'è che team ha versato 340 degli 840 milioni di euro all'anno che vengono appunto che sono stati messi sul piatto della lega per avere i diritti e team è un distributore quindi è distributore di quella app poi dopo alla fine ha confezionato diciamo una offerta con tutte le altre app è un'offerta sua ma è un distributore di quella app quindi i clienti di team saranno informati con le stesse comunicazioni dei clienti di da zone in quanto clienti che usufruiscono di una app dell'app da zone quindi quindi scusa se io voglio disdire l'abbonamento di da zone dovrò usufruire una riduzione non riesco a sentire se c'è se ho il diritto di recesso su da zone con anche con team team mi dovrà ridurre il prezzo dell'abbonamento in questo caso perché mi offre un servizio diverso da quello che mi aveva prospettato all'inizio penso proprio di sì adesso queste sono tutte domande di dettaglio che andranno in qualche modo in qualche modo viste io penso di sì però sono domande di dettaglio ripeto rispetto a questa situazione adesso per adesso sappiamo che c'è da zone che farà questo come questo sarà su sugli abbonamenti team io penso che ci sia assolutamente il diritto di recesso assolutamente sì io ti dico le offerte combinate team da zone e quelle c'è poco da fare andrea voi avete chiesto una risposta da zone e da quanto ho capito dall'articolo che lo rimettiamo manfred c'è scritto no comment no comment se non sbaglio è la stessa cosa che so perché ho letto le agenzie che stanno rispondendo anche adesso e no ti volevo dire secondo te la strada più facile e che gli conviene di più a da zone è quella faccio un esempio di fare come netflix quindi studiare tipo due piani a seconda del diciamo delle esigenze no familiari che uno ha oppure paradossalmente che leggevo che in america è una strada che stanno tracciando quello di farne uno ancora più basso costo faccio un esempio 6 euro ma riempirlo di pubblicità una domanda alla quale non so rispondere cioè nel senso che le possibilità le possibilità sono sono tante secondo me dopo aver scatenato questo putiferio il discorso dei 6 euro con la pubblicità lo vedo abbastanza no però sai stiamo parlando di 700 mila abbonati forse anche un modo perché ha una certa cifra forse che sono 30 adesso 6 euro sbagliato facciamo 15 ok dicevo comunque a metà prezzo mi sono sono rimasto bloccato no io non penso perché il problema loro forse secondo te è più sconfiggere le truffe o aumentare gli abbonati o entrambe le cose chiedo e poi so che non entrambe entrambe le cose evidentemente nel senso che c'è chiaramente una motivazione come dire abbattere queste truffe ma tutto questo è legato all'aumento degli abbonati che evidentemente ritengono possibile data la data la questione forse 4500 mila abbonati ritengono di riuscire a tirarli su tra loro e di ripeto è una mossa molto forte una mossa molto forte soprattutto perché viene fatta a campionato in corso e quindi adesso occorrerà sinceramente vedere col tempo che cosa succederà se saranno di più gli abbonamenti o di più le distette io in questo momento non mi sentirei onestamente di fare di fare delle previsioni perché se dovessi attenermi a diciamo rumore che si sente sui social dovrei pensare a un mare di distette poi sarà veramente così io questo ne dubito ma l'agicomo su questo cosa potrebbe intervenire potrebbe anche potrebbe anche in qualche modo dare un'ulteriore accelerata la pirateria chissà sono tutte cose sono tutte cose possibili va bene sarebbe assurdo visto che è stato fatto per andarci contro la pirateria però è quello che si legge ma il problema è sempre questo che di fatto se queste piattaforme secondo me come diceva andrea che ti facci i complimenti tra l'altro perché uno pensa sempre che un giornalista sia un po un boomer invece ci hai fatto dei nomi di canali telegram perché lì diciamoci la verità che nasce il problema è no che quando una piattaforma legittima l'utilizzo di canali telegram di un certo tipo scuse mi permette di fatto l'illegittima e quindi la gente si sente in diritto di farlo secondo me non ti senti neanche che stai facendo un diciamo un reato perché di questo si tratta poi dopo chiaramente non è un omicidio però è un reato più lieve però un reato la pirateria è un reato storicamente vale per le piattaforme vale per i giornali vale per tutto andrea ti ringrazio veramente di essere stato con noi magari ci aggiorniamo su whatsapp per i prossimi sviluppi grazie mille grazie grazie a voi e complimenti per l'inchiesta complimenti veramente allora tanta roba ragazzi poi ditemi che cazzo vi porta uno del sole 24 ore così bravo auguro ma dammi posso eh sì adesso che è andato via lui vai aspetta che faccio entrare scusa mi faccio entrare panozz benvenuto welcome 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 mamma mia per me per me se io non so se una cosa simile a una religione io io sei contento di questo spero che no dopo ci arriviamo manfra aspetta un attimo adesso andiamo su football manager dammi scusami che finiamo un attimo perché non ti abbiamo neanche fatto sfogare mi sembra anche irrispettoso di tuoi confronti semplicemente semplicemente andrea biondi è un ottimo giornalista lui da bravo comunicatore dice una mossa di da zona questa non è una mossa signori questa è una sola a roma la definirebbero sola perché perché tu mi vieni a dire a campionato in corso quindi non è che tu me lo anticipi e il paragrafetto che loro fanno vedere quello lì mi dispiace è vero magari saremo ignoranti non l'ha letto nessuno loro ti hanno messo il loro bello screenshot andrea se me lo puoi rimettere con su scritto da zona si sdoppia si sdoppia quindi io presumo eccolo qui lo vuoi leggere prima andrea da zona si sdoppia con un'unica sottoscrizione inoltre da zona praticamente si sdoppia potrai guardare due contenuti uguali e differenti allo stesso momento e da due diversi dispositivi nessun vincolo solo la passione per lo sport ad unire stanze città regioni e persone diverse tutto 29 euro al mese condividi le emozioni non è mai stato così semplice ovunque per te c'è la grande sì no qua ragazzi non si può non dare ragione trovate delle parentesi in cui c'è scritto solo nucleo familiare io non ne trovo quindi io adesso esigo che qualcuno intervenga esigo la protezione della gente che non si può permettere due abbonamenti perché non è un mio problema ma vedi andrea qui ci guardiamo in italia ci guardiamo tutti l'orticello nostro chissà se il numero uno degli opinionisti italiani che mi chiama coso difenderà il popolo che andrà a pagare un abbonamento in più o due abbonamenti no non torniamo non torniamo non torniamo se lo farà il numero uno degli opinionisti del web se andrà a difendere se andrà a difendere sei un coglione ma no mi dissocio mi dissocio da non andiamo su questa cosa per favore che la vanno su da zone non voglio chissà chissà se lo andrà a difendere ma questa è una cosa vergognosa ragazzi a campionato in corso a campionato in corso fai fai una roba del genere senza possibilità di scelta alcuna perché io mi dissocio completamente dal pezzotto mi dissocio no bravo io voglio essere una persona pulita ok quindi voglio poi voglio fare le cose legali se io me lo posso permettere ma un ragazzo che vuole pagare l'abbonamento alla mamma perché la mamma è sola in casa abita migliaia di chilometri da lui deve pagare due abbonamenti perché magari sta fuori e prendo 800 euro al mese ma stiamo scherzando comunque proprio adesso fa il solito no è finisco non voglio fare il solito populista ma andrea ma questi hanno rotto il cazzo e per tre mesi siamo stati dietro se vede in se vede se vede in se vede il buffering la connessione l'anima degli mortacci tua no veramente adesso che stavano migliorando questa cosa qua basta ragazzi ma basta ma ogni ogni mese c'è sta una di questa volta c'ha ragione Damiano perché loro hanno giocato su quella che è una scusami scusami auguro che volevo solo ringraziare l'esattore che ha regalato 10 abbonamenti grazie mille esattore del sostegno balza ancora di più per primo grazie mille ai nostri mecenati scusami auguro no dicevo c'ha ragione perché loro lo pubblicano in quella quella postilla che voi avete fatto vedere avrebbero quantomeno dovuto mettere un asterisco nel dire guardate andatevi a leggere però le condizioni di questo abbonamento loro non lo fanno perché sanno benissimo che quel questo tipo di attività l'avremmo fatta tutti io l'avrei data a mio suocero piuttosto che a mio zio piuttosto che a mia sorella loro come ha detto Damiano probabilmente in questo momento stanno facendo i conti della serva dopo tre mesi dall'inizio del campionato stanno capendo che forse l'offerta che hanno fatto per pagare diritti non ci rientrano con quello che stanno ricevendo dagli abbonamenti dell'interno dei pubblicitari e trovano un escamotaggio per fare pagare a noi quella che era una loro valutazione sbagliata però dicono una cosa giustamente in chat qualcuno tanti hanno dato ragione a Damiano c'è da dire sta roba qua che comunque è normale che le pubblicità siano ti faccio un esempio dammi sciocco io quando ho fatto riccione che è una pubblicità di 30 minuti ho detto ragazzi sto facendo il film della madonna con Enzo non ho detto ragazzi guardatevi 30 minuti di pubblicità però ci stanno pubblicità e pubblicità cioè io non posso dirti Andrea ti do il mio telefono però nel mio telefono puoi utilizzare due sim card faccio esempio ovviamente tu che fai ti informi giustamente no però poi magari vai a vedere che in alcune situazioni c'è questo telefono non è il caso dell'iPhone che ci sono dei telefoni che hanno due sim card tu non lo vedi magari tu sei a Reggio io sono a Roma ti mando il telefono e arriva con una sim card faccio questo stupido esempio tu che fai mi denunci per truffa no ma secondo me tra virgolette è peggio come se all'inizio vanno due sim card poi dopo un mese mi dici no se ne vuoi mettere due devi pagare no ma è peggio perché loro dovrebbero utilizzare dei metodi per chi punire per chi non lo utilizza in maniera lecita in maniera illegittima cioè se loro individuano e bloccano quegli abbonamenti che non sono utilizzati in maniera illegittima che sono utilizzati in maniera illegittima allora fanno il loro dovere e di guarda questa è una persona non fa parte del tuo del tuo nucleo familiare allora te lo blocco perché c'era scritto ragazzi non è una truffa ragazzi stanno c'è non è un'azienda che fa delle truffe sicuramente no no lo dicevo per lasciato non diciamo cazzate per favore l'unica cosa secondo me è che rispetto al classico rispetto al classico che poi succede anche per esempio quando fai il contratto per il telefono con team e vodafone che ci sono delle clausole 20 cose che non leggi però almeno in quelle cose lì c'è tipo un asterisco che ho scritto leggi questo punto meglio alla pagina c'è invece in questa pubblicità qua non c'è io non non dico che doveva scrivere chiaramente solo del nucleo familiare però poteva mettere asterisco e dire andate a leggere bene cosa vuol dire sdoppiare l'abbonamento ci mettono le regioni sport cioè ci mettono delle frasi di di contorno che non servono a niente piuttosto che quello che serve cioè va bene che va bene però così non va cioè è una pubblicità ingannevole comunque qualcosa che loro mettono in maniera scientifica cioè loro sapevano che questa cosa guardate ma guarda gusto io avrei molto più ammirato il fatto di dire signori non ci abbiamo capito un cazzo abbiamo speso più di quanto ci potevamo permettere giuro ma veramente abbiamo speso più di quanto potevamo spendere l'abbonamento da oggi per chi vuole continuare non si sdoppia più te giuro su mi madre che gliel'avrei dà te giuro posso dire una cosa dammi che bisognerebbe andare avanti molto di più magari domani sera ragazzi la riprendiamo smettiamo comunque di dire che il calcio del popolo dopo questa roba qua perché veramente tra tutto quello che viene dato ragazzi qua è diventato allucinante io spero che intervenga sia la lega calcio che dal pino ci aveva detto che tutelava ma però scusa mi auguro non è un problema cioè non è solo da zone perché per guardarti da zone cioè la serie a devi fare una cosa per guardarti sky devi fare un'altra e i mondiali un'altra ancora e poi devi avere prime per vedere una partita cioè alla fine chi la piglia in culo capito e poi secondo me purtroppo con queste mosse qua per forza di cose uno non c'è è vero che se uno non c'è i soldi da mangiare non va al cinema però è anche vero che se poi ci sono delle piattaforme che rischi di incentivare purtroppo la pirateria in ste modi qua ma il mercato della pirateria è un mercato che è già molto più grande di quello della legalità ma contrastatelo contrastatelo non mettetela nel culo non mettetela nel culo alle persone che si comportano bene perché se da zona oggi avesse detto signori guardate adesso stiamo indagando su chi sdoppia l'abbonamento con amico suo soldina cazzata e non con la famiglia perfetto vai fallo non ci sono problemi ma poi scusate qual è il concetto di famiglia qual è il concetto di nucleo familiare qual è mi venisse qui un cazzo di uomo di da zone e mi venisse a spiegare il concetto di famiglia perché qual è il concetto di famiglia io che sto a roma e mi fratello che sta a londra qual è il concetto di famiglia chi vive nella stessa casa chi è sposato chi è convivente chiede lo stesso sangue qual è il concetto di famiglia per questi signori sono una massa di buffoni no 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 non me ne frega un cazzo sono una massa di buffoni e a me mi hanno rotto il cazzo perché io stamattina mi sono dovuto trovare un miliardo e mezzo di messaggi di gente che purella non si fa permette due abbonamenti e a me meno del culo andrea orfaina non si è mai guardato l'orticello suo perché se ne guardavo l'orticello mio davo che stava che era arrivato qua qui invece sono arrivato del cervello allora genitore uno genitore due genitore ci vorrebbe la canzone va bene allora usciamo un attimo perché abbiamo secondo me arriveranno io mi dissocio ovviamente per le prossime elezioni i voti per il sindaco ormai ce li hai damiana possiamo finire no però posso rispondere al vola 1 tigro bus tu che mi dici a me di leggere le condizioni contrattuali io ti vorrei conoscere vorrei capire se tu le hai lette o hai cliccato il bottoncino come hanno fatto il 99,9 per cento di questa popolazione accetta e dichiara di aver letto aspetta che gli mando link accetti e dichiari l'hai letto tu magari stai stato al mare con un cocktail in mano tigro bus io sto dalla parte di tigro bus tigro bus non ti farà battere io sono dalla tua parte e ti mando il link se vuoi entrare un attimo al volo hai due minuti per entrare ma se sei davanti alla chat basta che clicchi che dobbiamo andare su football manager scusaci panno se siamo arrivati così lunghi ma c'è successo il mondo ci hanno cambiato il calcio ma tu ce l'hai da zona alberto sì ce l'ho e tra l'altro io sono uno che verrebbe assolutamente penalizzato perché proprio la scorsa settimana ero via ero in trasferta e la mia famiglia qua mio figlio guardava la partita qua a casa io la guardavo via non lo potrei più fare e noi siamo lo stesso nucleo familiare così come doveva essere e in questo caso non potremmo vedere la partita dovrei farmi due abbonamenti se io sono fuori mi sembra sembra una cosa normale no ma a me mi sa io non vorrei capire come hanno fatto a concepirla loro perché poi lo sai che va in quella direzione sono finiti i soldini amico mio sono finiti i soldini finito over game over è no però allora basta ma lo dicessero poi pano se deciderà lui se farlo il secondo abbonamento augusto deciderà lui io deciderò manfredi te tutti chi cazzo te pare decideremo noi se farlo ma almeno contrattiamo con una persona che è sincera va bene no no ma la scusa ragazzi è qualcosa di atroce contrasto alla pirateria è una cosa atroce no poi sai cosa che non è quello che mi fa ridere è che mai solo il per cento cioè perché si fa tutto questo casino per almeno da quanto ho capito solo il 20 per cento lo userebbe in una certa maniera allora c'è l'80 per cento che invece lo usano in maniera corretta e quindi mi sembrano strane queste cifre quindi non lo so cosa ci dicono chiedono se è fatto per far vedere meglio le partite metti che uno si vedranno peggio perché ci avranno più dense no ma poi ho noto una cosa ne parlavo stamattina con manfred per altre robe come io che ho 36 anni sono cresciuto in un mondo dove diciamo che le persone normali andavano diciamo contro il potere per diciamo potere che vuol dire persone o vuol dire diciamo aziende no per ottenere dei risultati mentre a oggi se tu diciamo dice una cosa che è contro o la dissenti da qualcosa parte diciamo della community paradossalmente difende il potere cioè se tu dici una roba sulla ferragni non cito sulla ferragni che sei invidioso oppure non hai letto bene le condizioni mentre raga oggettivamente dai sicuramente loro avranno scritto e stanno leggendo nella realità però io adesso la lazio la vedo in casa vado allo stadio in trasferta io invito non so dica a caso 10 persone a casa mia 10 persone ci guardiamo la partita da zone vuole vuole i soldini anche da quelle nove persone che vengono a casa mia ma no ma che stanno fruendo di una buona e no ma perché è questo che è questo stiamo andando verso questo vogliamo mettere un omino di da zone fuori la porta di casa mia per prendere i soldini volete questo in bianconi del cazzo no 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 ci dissociamo ci diciamo è un discorso da populisti questo comunque potresti valutare il sub affitto di da zona a casa mani quella è una bella alternativa